Buon pomeriggio dal Ronco del Pioppo qui in Ortigia, Sicilia e vi aspettiamo, mi raccomando, quest'estate saremo carichi, pieni di cose belle, tutte fatte a mano tutte fatte da artisti, artigiani specializzati di qualità con anni di esperienza e ovviamente tutto accompagnato da la nostra mascotte che è rimasta, penso, Giozia perché Giozia è rimasta la nostra mascotte ma ce ne sono tantissimi in giro che al momento sono spariti ecco, non è di là, sono spariti tutti ma vedete, vedete, in giro comunque, sì sì, siamo qui a Ronco dei Gatti così detto Ronco del Pioppo, quindi ovviamente non mi dimenticate che i quadri restano qui anche quando non ci siamo, restano qui e sono disponibili per la vendita anche la nostra bella casetta dei libri resta qui, disponibile gratuitamente 24 ore su 24 e anche i nostri bigliettini